La Serie A torna a Trapani. Sabato, ore 20 e 30, al Palauriga, l'UPEA Capodorlando di Gianluca Basile cerca i due punti per blindare la salvezza contro una Reggio Emilia a caccia dei play-off. Serve il calore di tutti per far vincere il basket siciliano. UPEA Capodorlando, Reggio Emilia. Sabato 28 marzo, alle ore 20 e 30.